Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovato nel primo episodio di Scribblenhouse Unlimited, più bel gioco mai creato su questo mondo. Nonno Edgar e nonna Julie. Ah, ma a me ne frega molte, quindi iniziamo questa splendida avventura di Scribblenhouse Unlimited. Oh, ciao. Allora, dobbiamo andare dal signore. Vieni qua, ciao ciccio. Guadagna uno starite che sta aiutando Edwin con il tuo pluripignato maiale. Ok. Se somma il più piccolo della cucciolata in un maiale pulipignato scrivi un oggetto per aiutare Max a pulire il maiale. Pulire il maiale posso usare... spugna. Pulisci. Oh, ok. Pulisci. Oh, ok. Aggiungi oggettivo. Ok, aggiungi oggettivo. Gigante. Ho un maiale gigante. Dovevo mettergli delle ali. Ali giganti. Cioè volevo dire galante. Ali enormi. Enorme. su. Allora. Allora. Ecco arrivano i gioici. Adesso mi sa che dovrei mettergli le ali giganti. Ho un maiale volante gigante. Che bello. Sto litigando il mio fratello. Lì. Bravo. Guarda da lì. Va bene. Sì, ha vinto il maiale gigante volante. Dai, si può saltare questa sequenza. Sì. Ho vinto uno strike. Vai, adesso voglio creare quello che mi pare. Sì. Continua. Allora. 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 vinto. L' nosemista star a hit. Ok. Vi si è avuto da aiuto. Aiuto il seme a crescere. Ok. Aiuto il seme a crescere. Quindi possiamo dargli del OGM. OGM Cioè intenevo un'oca No Prima di fare insieme quindi pioggia Violenta Che va a far piovere? Pioggia Pioggia No ma dai E' diventato carnicolo Quello ha tolto le posizioni Quale le strumenti di sette livelli Ok Ah dovevo resettare ok Sì Avevo resettato Oh Blocca punti bloccato Volgarità materiale Coperto da diritti d'autore Nomi propri non sono consentiti Ok Bloccato su... Salviamo la gattina con Un Pompiere Volante Sì Sì Ho salvato la gatta Adesso Che devo fare? Ah ho comprato già il livello Ok Prende quasi... Ah devo andare a raffermare l'autobus Corri bimbo Ok Ok No ancora no dai Teniamoci Maxwell Che vita simpatico Andiamo alla capitale Grande Maxwell Ce la possiamo fare Dai Oh Ora ci possiamo divertire un pochino Ehehehe Ok Mettiamo subito un po' di scompiglio Cosa vuoi? Fatemi divertire Ti faccio subito divertire Ti faccio subito divertire Con Godzilla Cioè volevo una connella Chi è? Dimentica Diti la connella No che è proprio che schifo Vai la Lorenzo Eh Scusate Ehm Non può farti divertire Ci vedi? Giova col telefono Che aggettivo Un Divertito Cioè volevo un Divanetto Ma come? Ehehehe Dai Allora un divanetto Che cosa ho fatto? No no ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Dalle palle Faccio uscire E cioè Un Che Ehm L'inferente L'esercito Direto Un Dio Il Il Un Ogni Ok, allora chiamo tipo un Un clown Va divertiti Che cazzo È successo Ah, ti ho fatto Divertiti Che cosa Ok Andiamo con scarafaggio Ehm Non aggiungi oggetti con scarafaggio Ehm Nucleare Indaco No, no, no Ho creato una bomba Aiuto Ho creato una bomba atomica Basta Cosa sta facendo? No, non voglio che esploda Innocuo Ok Metti qualcuno nella cabina telefona per farmi un mio aiutante Gietti arcobaleno No, non voglio che esplodere Ok Dai, ci ho messo il singhiale Dai, ci ho messo il cinghiale Dai Accariziamo il cinghiale Oh, mi sta picchiando no dove vai perchè questa cosa sta ancora fumando va bene chiudi la porta mamma cosa posso metterci un superman va bene c'è un sandman certo proprio uguale è un uccello no è sandman andiamo ad aiutare altra gente ciao vieni più vicino per attivarmi ah no è una sfida allora perchè mi sta seguendo lo scarabeo nucleare oh così brutto c'è un ucce bello perchè mi hai avuto un cappello pulito pulito perchè mi hai avuto una musichetta ah ok ok tutto ok ho parcheggiato dove non dovrei carroattrizzi metallico di fiamme cioè di ape aviare di acero di cito non ho creato cos'è cos'è cos'ho creato basta ti prego chiamo un carroattrizzi ah ok ok ma non c'è leghi monta vai tu mi hai la macchina ah ah ciao vai cagare momentiamo qua dentro a vedere cosa ci posso fare santo asterisco ok consiglio che fa non c'è